Un cumulo di macerie, ecco come appare la città canadese di Fort McMurray nella provincia di Alberta. Dopo essere stata attraversata dal terribile incendio che da giorni sta devastando il paese, i pompieri continuano a lavorare alla cremente per fermare le fiamme. Le autorità hanno espresso la propria soddisfazione per il fatto che larga parte della città e il suo centro sono stati salvati. Dice la premier dello stato di Alberta, la città rinascerà dopo questo disastro, gran parte delle infrastrutture è stata salvata, malgrado le fiamme l'avessero cinta fino a pochi giorni fa. Fort McMurray e le comunità vicine si sono salvate e verranno ricostruite. Dichiarazioni positive, malgrado i danni, siano incalcolabili. Le assicurazioni dovranno pagare circa 6 miliardi di euro per il peggior incendio della storia del paese, mentre rischia di esplodere un'epidemia di gastroenterite, favorita dalle pessime condizioni igieniche provocate dall'incendio.